Nato come Parco Nazionale d'Abruzzo, oggi comprende Lazio e Molise, volontà chiara di tutelare un territorio che ha avuto grandi cambiamenti, Massimiliano Franceschelli dalla TGR Abruzzo. Il Museo Storico racconta attraverso una lunga serie di pannelli i primi cento anni di storia del Parco Nazionale d'Abruzzo, a sede in quelle che un tempo erano le scuderie del palazzo di famiglia del fondatore dell'area protetta, Erminio Sipari. Qui abbiamo un registro del 1925 dove si racconta l'episodio della cattura di un orso, un orso adulto, che ci riporta un poco anche all'attualità, l'antenato di guancarrito irriducibile che non si ferma di fronte a nessun tipo di dissuasione. E qui era la stessa cosa, tutti i tentativi di dissuasione messi in atto per allontanare questo orso dagli stazzi, dalle pecore, che continuava a frequentare tutte le notti nei pressi dei paesi, fallivano. E quindi per evitarne anche l'uccisione, il pericolo di essere ucciso, il Parco lo catturò. I rapporti tra la fauna del parco e l'uomo sono oggetto di studio continuo da parte del personale scientifico dell'area protetta. L'equilibrio tra tutela degli animali e gestione delle aree abitate ha subito dei profondi cambiamenti nel corso degli anni ed è in continua evoluzione. Allora, questo è il posto dove è nato il parco, Montiamaro e la Camosciara. Gli animali sanno che si trovano in un'area protetta e quindi questo li rende meno elusivi, meno schivi e meno preoccupati della presenza dell'uomo. Quindi chi viene in questo parco viene con l'intenzione e l'obiettivo di vedere la grande fauna e la grande fauna si fa vedere. Giornata della terra anche per fare i conti con le crisi più recenti come quelle portate dalla guerra in Ucraina a costo dell'energia e reperibilità di materiali. Parliamo di alluminio, produrlo dalla... Alluminio Alluminio